L'Arezzo vince nettamente il Memorial. L'Orentini giunto alla sua 24esima edizione, alla fine è stata una festa, visto che questa manifestazione, al di là dell'aspetto agonistico, si pone in linea con i valori che l'associazione che tutela la memoria delle vittime dell'Aisel si propone. Arriva a dirlo il collega Andrea Lorentini, figlio del medico deceduto all'Aisel. È un Memorial che ricorda la figura di mio padre Alberto Lorentini anche per quello che è stato il suo gesto nella serata tragica dell'Aisel quando lui comunque come medico era tornato indietro dopo le prime cariche dei tifosi inglesi e purtroppo perse la vita mentre stava cercando di prestare soccorso ai feriti sugli spalti e per questo è stato insignito della medaglia d'argento al Valor Civile. Quindi credo che anche il suo esempio debba essere comunque un punto di riferimento per i ragazzi che hanno partecipato a questo torneo soprattutto per far capire loro quelli che invece devono essere i veri valori dello sport e vivere lo sport in maniera assolutamente positiva. Il successo dell'Arezzo è stato detto in Casa Maranto abbiamo notato la presenza anche di alcuni giovani interessanti ad iniziare dal centrale difensivo Gori che sembra essere destinato all'Empoli. Al termine le premiazioni dal giocatore più disciplinato Mattia Tilli della San Giovannese alla squadra più disciplinata il Terra Nuova Traiana per passare al miglior portiere Leo Corvino sempre dei Biancorossi Valdernesi a miglior difensore Jacopo Falchi dell'Arezzo Academy. Il miglior centrocampista è stato Lorenzo Lanini dell'Arezzo mentre la punta che si è segnalata è stata Mattia Bruni del San Giovannese un premio anche al bomber del torneo Piero Bernardini dell'Arezzo e a quello che è stato ritenuto il miglior giocatore dello stesso torneo Ettore Minocci sempre dell'Arezzo. Come allenatore il riconoscimento è andato Marco Bacci del Santa Firmina mentre Giovanni Ghelli del Bibiene ha avuto una targa assegnata al giocatore più giovane. Prima dell'inizio della cerimonia un premio alla carriera è andato anche al mitico Bacci uomo tuttofare del Santa Firmina soddisfazione espressa dal presidente del sodalizio gialloverde Rosati. Siamo arrivati in fondo è andato tutto bene bel torneo belle squadre veramente un ottimo anche un buon livello e quindi siamo soddisfatti di questo torneo di questo memorial più che torneo perché chiamiamolo col suono perché questo è un memorial non è un torneo e siamo arrivati in fondo contenti stanchi ma contenti.